L'Istituto Comprensivo Multiculturale Posatora Piano Archi diventa ancora più internazionale da settembre 2019 grazie all'attivazione del corso Cambridge International, un nuovo piano di studi che aumenterà di due ore l'insegnamento della lingua inglese e che riguarderà sia la primaria Leonardo da Vinci, dove gli studenti stranieri sono il 90%, sia la secondaria Podesti. L'Istituto è il primo caso di scuola pubblica a livello regionale ad affrontare una scelta didattica di questo tipo, che nella primaria diventerà il piano di studio ufficiale. Abbiamo visto che molti alunni nostri arrivavano con una buona conoscenza della lingua inglese e crescendo in un contesto bilingue avevano un apprendimento molto più veloce anche di quella che è la lingua italiana perché ovviamente si allena all'orecchio, all'ascolto, perciò abbiamo detto perché non dare la possibilità anche ai bambini che entreranno nella nostra scuola italiana e di appunto crescere in un contesto dove si impara più facilmente una seconda lingua. L'organizzazione dell'orario del corso prevede anche una giornata settimanale in cui i bambini usciranno da scuola alle 16.30. Il programma Cambridge International è svolto da docenti appositamente formati affiancati per un'ora a settimana da un insegnante madrelingua. Inoltre gli alunni potranno studiare la lingua anche attraverso approfondimenti in inglese delle altre materie. Nella nostra scuola abbiamo il 90% di bambini che vengono da paesi diversi e abbiamo visto che questa diversità è sempre stata una marcia in più che avevano i bambini che erano iscritti in questa scuola perché, come lei sa, i bambini crescono senza schemi, senza pregiudizi per cui era un ambiente molto più allegro dove confrontarsi con l'altro e con culture diverse.